Buongiorno a tutti, vi prego cortesemente di prendere posto perché sono già le 2.05, il pomeriggio sarà comunque ricco di relazioni per cui non voglio incominciare accumulando già un ritardo, a fine settimana siamo tutti comprensibilmente anche stanchi. Bene, sono lieta di inaugurare questa sessione pomeridiana che proseguirà la nostra discussione, che questa mattina è stata molto proficua, molto variegata, pensando all'ultima slide provietata dal collega Piercarlo Bocchi, mi è venuta in mente un'immagine caleidoscopica, con al centro proprio questa figura del docente che però è stato così indagato in molte componenti, dalle competenze alle conoscenze, al ruolo sociale, a come viene percepito, presentato, vissuta anche la condizione di docenti. Per cui la discussione proseguirà anche oggi pomeriggio con altrettanti ospiti che avranno delle relazioni interessanti, questa volta forse un po' più legati al contesto locale, cantonale ma anche nazionale, con il primo ospite e quindi non vorrei prendervi più tempo e cedo subito a loro la parola con il primo ospite che invito intanto a raggiungerci sul palco, Rolf Bossart. Rolf Bossart è docente di studi religiosi e di educazione alla democrazia all'alta scuola pedagogica del canton San Gallo, ma insegna anche psicologia e pedagogia al liceo del canton Appenzello, è inoltre anche giornalista attivo nel campo culturale e teatrale ed infine membro del consiglio della società svizzera per la formazione degli insegnanti. Oggi ci presenterà una relazione dal titolo Contradizioni e rimozioni delle immagini della professione di insegnante. Rolf parlerà in tedesco ma abbiamo tradotto le slide in italiano per cui avremo comunque una traccia da seguire e nella fase conclusiva della giornata, se volessimo comunque rivolgere delle domande al dottor Bossart avremo un aiuto insomma che ci aiuterà in questa mediazione linguistica. Grazie e cedo la parola al dottor Bossart. Gentili signore e signori, ringrazio molto per avermi invitato e mi scuso che parlerò tedesco, palo solo un poco italiano di ristorante. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. in pädagogico, in Hochschule, etwas Verdrängtes darstellt. Und da verdrängt, verstehe ich, dass eine wichtige Sache, von der man nicht genau weiß, was man damit machen soll, die man aber auch nicht einfach loswerden kann, irgendwo im Ungefähren und im Untergrund haust, sich hier und da zeigt, ohne dass man sich ihrer annimmt und die sich daher immer wieder, meist in ungewollter Form, Geltung verschafft. Und da muss man sie wieder von Neuem verdrängen, weil man sie genau so nicht haben möchte. Um es mit einem Beispiel zu konkretisieren. Seit mehreren Jahren lese ich am Ende des Semesters immer circa 60 persönliche Reflexionen über das Fach Ethik. Die Überzeugungen der Studierenden des ersten Semesters sind in den allermeisten Fällen getragen von einem starken Wunsch danach, den Schülerinnen und Schülern Werte zu vermitteln, etwas pathetisch formuliert. Sie wollen das Gute lehren. Aber inwiefern findet eine bewusste Auseinandersetzung über dieses Gute als moralische Praxis in der Ausbildung statt? Ginge es bei dem Guten nur um Präkonzepte von gutem Unterricht, so hätten wir kein Problem. Aber die moralische Seite gehört ebenso zu den mitgebrachten Vorstellungen der Studierenden. Und deshalb verlangen sie in einer Ausbildung ebenso nach einer Bearbeitung im Sinne einer angeleiteten Einrichtung eines Vorstellungsraums vom Guten. Auch wenn das natürlich nur schwer in einem wissenschaftlichen Sinn zu bewerkstelligen ist. Wir können sehen, dass die Berufsbilder, mit denen die Studierenden an die PHs gelangen, normalerweise zwei stark divergierende Komponenten aufweisen. Ich habe das in schlechtem Italienisch selber gemacht, die anderen Folien sind dann professioneller übersetzt. Ja, auf der einen Seite steht das technische Bild mit klaren, lernbaren Methoden und Instrumenten. Auf der anderen Seite steht ein idealistisches Lehrerbild als eine Daseinsform des Zusammenseins mit Menschen, des Begleitens, Ermunterns, Zusprechens, Führens, Zeigens und so weiter. Meine Erfahrung ist die folgende. Existieren diese zwei Pfeiler des Berufsbildes am Anfang des Studiums weitgehend parallel und sind noch irgendwie miteinander vermittelt. So treten sie während der Ausbildung immer mehr auseinander. Der Fokus auf die technische Seite, auf das zählbare und machbare, auf what really works, wird die idealistische, sentimentale Seite als unwesentlich, ja hinderlich wahrgenommen und driftet ab ins diffuse. Als symptomatisches Beispiel für die in den letzten 20 Jahren, wie es scheint, allzu leichtfertige Bereitschaft, diese idealistische Seite als unwesentlich und als hinderlich zu entsorgen, sei hier ein Zitat von Terhardt eingeblendet, man könnte andere bringen. Also dieses, um es gleich vorweg zu sagen und so weiter, was er hier sagt. Also das Problematische an diesem Zitat ist nicht die Kritik an einer anachronistischen Vorstellung von etwas Wahrem und für alle geltenden Menschen und Leitbildern, sondern es ist, was mich stört daran, ist die Verknüpfung von Leitbildern mit daraus abzuleitenden klaren Kompetenzen und wenn man das dann verknüpft, dann kann man es als unseriös entsorgen, weil darum kann es nicht gehen. Man möchte Terhardt entgegenhalten, dass Menschen und Leitbilder immer vorhanden sind, wenn nicht explizit, so implizit und die Beschäftigung mit ihnen, sei es unter normativen oder historischen Gesichtspunkten, kann gerade zeigen, dass sich jede Lehrperson entgegen der routinierten Rede von der stets sich wandelnden Zukunft doch immer und immer wieder mit denselben menschlichen und institutionellen Antinomien und Paradoxien konfrontiert sieht. Und diese sind in allen guten Anthropologien und Soziologien und so weiter, werden die verhandelt und sind ausgelegt. Zu nennen ist hier nur als Beispiel die Schrift von Helsper, Pädagogisches Handeln in den Antinomien der Modernen, wo er etwa die vier Paradoxa des Lehrberufs benennt, mit Rationalisierungsparadox, Pluralisierungsparadox, Individualisierungsparadox, Zivilisationsparadox, man könnte weitere anfügen. Angesichts der in wesentlichen Teilen, also antinomischen Verfasstheit des Lehrberufs, ist es erstaunlich, wie stark sich die Ausbildung an den pädagogischen Hochschulen auf Innovation, Flexibilisierung und Neologie ausrichtet und wie wenig Aufmerksamkeit sie einer historischen, anthropologischen und soziologischen Pädagogik widmet, beziehungsweise wie wenig Gewicht im Vergleich zu den Möglichkeiten und Machbarkeiten den Unmöglichkeiten des Lehrberufs beigemessen wird. Letztere werden ja dann immer manifest, wenn man irgendwo ansteht, im Scheitern, im Beharren, wo man aushalten muss und so weiter. Das Ganze nennt Helsper Antinomie-Resistenz. Und ich habe versucht, vielleicht kann man das so lehren mit solchen Fragen, was Antinomie-Resistenz sein könnte. Ein wichtiger Grund der eben diagnostizierten Verdrängung liegt sicher im Verschwinden der Pädagogik aus den Curriculas der PHs, beziehungsweise deren Transformation in evidenzbasierte Erziehungswissenschaft. Wie es historisch zur Abwertung beziehungsweise Verdrängung der Pädagogik aus den pädagogischen Hochschulen gekommen ist, hat Lucien Gribble in einem Artikel 2007 nachgezeichnet. Gribble widmet sich der Frage, wie mit der Reform Ende des 20. Jahrhunderts die allgemeine Pädagogik mit der Zeit aus den Curriculas verschwunden ist. Hier ein Zitat, also jetzt nicht von Gribble, von Göhlich, der ein ähnliches Problem anspricht. Gribble geht aus einem pädagogischen, aus von einem pädagogischen Fachverständnis in den Lehrerinnenseminaren, das aus den 70er Jahren kommt, aber eben bis zur Jahrtausendwende Bestand hatte. Ich zeige hier eine kleine Zusammenstellung auf Deutsch. Also da, das war fester Bestandteil in den Lehrerinnenseminarien und die allgemeine Pädagogik als sehr vielfältige Disziplin, aber ganz in einem kompakten Fachverständnis und das sich also an der wissenschaftlichen Disziplin ausgerichtet hat und nicht am Berufsausauftrag. Die Beschäftigung mit Grundfragen der pädagogischen Disziplin hatte nie das Ziel, professionelle Handlungskompetenzen aufzubauen. Sie bot aber einen Rahmen, um die eigentlichen idealistischen Berufskonzepte in Kontakt zu bringen mit historischen und aktuellen Konzepten und dabei erstens das eigene mit dem Fremden zu konfrontieren und zweitens zu lernen, dass die große Bedeutung, die diesem Lerngegenstand in der Ausbildung beigemessen wird, nicht mit etwas Messbarem zu tun hat, sondern, dass man im Lehrberuf darauf setzt, dass es auch dieses Orientierungswissen braucht, also nicht etwas, was man messen kann, sondern eben, wo man sich eigentlich nur orientieren muss. Und wo die Studierenden halt eben dann sehen können, dass wenn dem Gewicht beigemessen wird in der Ausbildung, dann wird es wohl halt wichtig sein, was im Moment eben viel weniger der Fall ist, weil es eben in Kleinteilen zerfällt, das ist ja nicht ganz verschwunden. Kribbler ist daher zuzustimmen, wenn er anregt, die Lehrerinnen und Lehrerbildung sollte sich deshalb die Frage stellen, wie in Zukunft die Beschäftigung mit allgemeinen Grundfragen der Pädagogik jenseits utilitaristischer Prinzipien in der Ausbildung sichergestellt werden kann. Durch den Fokus auf die Verdrängung der Pädagogik wollte ich auf die Notwendigkeit hinweisen, dass die Vermittlung des Ideellen mit dem technischen Teil des Berufsbildes in der Ausbildung stattfindet. Geschieht diese Vermittlung nicht, läuft man Gefahr, dass der nicht integrierte ideelle Teil als etwas unreflektiertes, verdrängtes irgendetwas macht. Denn da der Idealismus oder Sentimentalismus von uns allen, die wir in diesem Beruf tätig sein wollen oder sind, da dieser Sentimentalismus und Idealismus nicht einfach verschwindet, wenn man ihn nicht bearbeitet, nimmt er in der Regel drei Wege. Er kann erstens im Verlauf der Ausbildung so etwas werden, das man ablegen muss, Professionalisierung wird dann durch den Grad definiert, mit dem man alles Idealistische als für das Berufshandeln unwesentlich klassifiziert. Er kann zweitens überwintern als abgetrenntes Bewusstsein und sich in Krisensituationen als das unbewusste Andere zeigen in ressourcenverschleißenden spontanen Handlungen von Euphorie, Enttäuschung, Beleidigtsein, falschen Attribuierungen von Lob und Kritik und so weiter. Und drittens kann es zur mystagogischen Aufwertung des in der Ausbildung nicht thematisierten idealistischen Berufsbildes kommen, in dem die Ausbildung als unwichtig abgetan wird und Lehrersein dann etwas ist, was man eben nicht lernen kann, sondern einfach immer ist. Ja, also in solchen Zitaten sieht man, das kann auf die hohle Seite kippen oder auf die gute Seite kippen, also wie gehen wir mit solchen Pathos um? Ich könnte das Ganze auch noch erklären an diesen vier Lerntypen, die ja die UNESCO mal formuliert hat und da sehen wir schnell, dass also dieses Imperare Pella Vita, also dieses Vierte, sehr wenig stattfindet, wie es auch immer dann auszuarbeiten ist, also es geht ja nicht auf allein in der allgemeinen Pädagogik, sondern hat auch noch zu tun mit Supervision, Intervision, ethischen Überlegungen und so weiter. Ich komme zum Schluss. Lassen Sie mich zusammenfassen, suggestiv und rhetorisch Fragen bereitet eine evidenzbasierte Erziehungswissenschaft, die erforschen muss, was messbar ist und finanziert wird und die ständig bessere und neue Lösungen für die immer gleichen Probleme menschlicher Individuation vorschlagen muss, ausreichend auf eine von Antinomien, Aporien und Wiederholungen geprägte Profession vor. Oder wäre sie nicht wieder zu ergänzen durch einen integrierten Ansatz, der versucht, die romantischen sentimentalen Präkonzepte der Studierenden zu vermitteln mit den spezifischen Professionsantinomien. Muss man nicht davon ausgehen, dass ein auf Paradoxien, Balancen und Vermittlungen aufbauendes Lehrerethos genauso notwendig ist für den Berufsalltag wie Handlungskompetenzen, Techniken und Forschungstransfer und läuft eine allzu einseitig auf Letzteres ausgerichtete professionelle Selbstwirksamkeit nicht vielleicht schneller ins Entweder-Oder-Von-Burnout oder Erfolg. Eine Ausbildung kann nie alles leisten, ich bin aber der Meinung, dass das, was die Studierenden oft motiviert, den Lehrberuf zu ergreifen, was also weder mess- noch operationalisierbar ist, dass dies alles in den Ausbildungsinstitutionen wieder eine Aufwertung erfahren muss. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Grazie mille al dottor Rolf Bossart, vi presento il prossimo ospite che sarà Fabio Camponovo, quindi una personalità nota che molti conosciamo in Ticino. Fabio Camponovo per oltre 30 anni si è occupato della formazione dei docenti d'italiano, collaborando con l'Università di Friburgo, anche con lo stesso DFA, è stato membro del gruppo di lavoro incaricato di fondare un istituto di formazione degli insegnanti ed è esperto d'italiano per la scuola media. Fabio Camponovo interverrà con una relazione intitolata Diventare insegnante tra formazione e concezione del proprio ruolo. Prego Fabio Camponovo di... Eccolo qua, grazie. Grazie. Imbarazzante essere accolto con dei applausi preventivi che poi magari diventano fischi alla fine non faccio premesse forse una brevissima è che è la seconda volta che mi trovo in questa condizione al DFA di partecipare a una giornata di studio sono noto per essere prolisso e quando io intervengo siamo già in ritardo di almeno 15 minuti e allora il mio imbarazzo aumenta ulteriormente a un certo punto se proprio capite che ho detto troppo mi fate dei segnali e io smetto allora io ho cominciato a insegnare all'età di 22 anni quando ancora non avevo terminato gli studi ho insegnato fino a 66 anni compiuti forse la mascherina la posso togliere e in 35 di questi mi sono anche occupato di didattica e di formazione degli insegnanti nei settori del secondario 1 e 2 la scuola è stata dunque la mia vita professionale preciso in entrata questo dato biografico non certo perché abbia importanza in sé ma per sottolineare come in una così lunga esperienza di aule e così lunga frequentazione di professori ho avuto modo di collaborare e di confrontarmi con generazioni di insegnanti tra loro molto molto diverse diverse per il modo di concepire la professione docente e se posso dire così diverse per il modo di concepirsi come educatori responsabili dentro la professione forse per questo mi affascina il tema dell'identità professionale nella prospettiva dei vissuti generazionali e delle autoconcezioni spesso implicite che nel corso degli anni hanno reificato il compito educativo in atteggiamenti pedagogico-didattici in forme di partecipazione alla vita della scuola in ruoli socioeducativi in condizioni intellettuali naturalmente così tratteggiato il tema appare non solo ambizioso ma decisamente inarrivabile mi baso allora su rilievi personali e mi affretto a dire che la mia intenzione è soltanto quella di sollevare alcuni interrogativi anche in forma provocatoria anzi il mio sarà sostanzialmente un intervento provocatorio su uno specifico punto quanto e in che modo i modelli di formazione iniziale degli insegnanti possono contribuire a far evolvere ma anche a condizionare la percezione di un sé professionale altrimenti detto in che misura gli obblighi formativi che sono stati introdotti per accedere al diploma di insegnamento contribuiscono a rifondare un'identità professionale io penso sia più che legittima per un istituto di formazione l'ambizione di costruire o almeno di contribuire a costruire la figura professionale del maestro e penso però sia anche doveroso per il medesimo istituto interrogarsi costantemente sui principi che identificano questa figura un compito non facile questo perché la natura intellettuale e intrinsecamente relazionale oltre che civile ed etica della professione dovrebbe essere sempre criticamente sottoposta al vaglio dell'evoluzione storica voglio dire cioè che non esiste una posizione di per sé estranea ai contesti politico-educativi dentro i quali si esplica la professione ecco dunque dal mio punto di vista un primo aspetto critico quando penso agli obblighi formativi come mai questo specifico tema quello di certa inevitabile relatività dei modelli di sviluppo professionale non trova grande spazio riflessivo dentro gli istituti e nei programmi di formazione come mai ogni paradigma pedagogico-didattico che io ho incontrato e che lo studente che si forma incontra dalle vecchie tassonomie degli obiettivi alle trilogie dei saperi dall'insegnamento per competenze all'esaltazione delle trasversalità educative dalla didattica digitale integrata alle rubriche valutative eccetera eccetera come mai dicevo questi paradigmi tendono ad essere veicolati come verità scientifiche inappellabili e non come frutto anche di una strumentazione concettuale storicamente definita consideriamo il fatto che proprio in questi ultimi decenni che proprio questi ultimi decenni hanno visto la scuola doversi confrontare con l'impressionante mutamento dei paradigmi di riferimento socioculturali con giovani allievi sempre più abituati al consumo immemore di beni materiali e immateriali con una società liquida nella quale scontiamo l'assenza di prospettive certe e di provata autorevolezza con una frammentarietà percettiva e relazionale che è spesso fonte di disagio e di disgregazione si tratta di un fenomeno chiaramente non rilevabile in maniera esclusiva nella scuola ma contestualmente trasversale a molte altre realtà comunicative formative e persino politiche superficialità testualità ridotta ai minimi termini a slogan scarsa profondità culturale tendenza alla banalizzazione e all'apparente fuga dalle ideologie fascinazione indotta più dall'intrattenimento emotivo che dallo scandaglio conoscitivo e riflessivo per carità non si tratta qui di stigmatizzare o di fare facili moralismi si tratta di prendere atto di una realtà bisognerà però chiedersi allora proprio nell'ottica della formazione di un'identità professionale se questa è una realtà alla quale l'insegnante dovrà in qualche modo adeguarsi facendosi intrattenitore propositivo oppure una condizione alla quale dovrà consapevolmente porre un'argine promuovendo processi cognitivi alternativi la scuola che almeno fino ad alcuni decenni fa deteneva il primato quasi monopolistico dell'istruzione ed era luogo della fatica dello studio e della lenta processazione cognitiva oggi deve sostenere il confronto con agenzie formative dei linguaggi su asori e si confronta con mandati educativi sempre più ambiziosi anche il suo dettato istituzionale sfiora ormai pericolosamente quello del servizio educativo a tutto campo che assolve a bisogni plurimi di allievi e famiglie è una scuola e di conseguenza un insegnante che io considero a rischio di implosione cioè sottoposta a continue richieste sollecitata da mandati educativi eterogenei tanto da correre il rischio di rimanere schiacciata su se stessa alla ricerca con l'insegnante di una identità dico questo per sottolineare come il compito dell'insegnante già difficile in sé negli ultimi tempi lo è diventato ancora di più mi chiedo come se ne tenga conto in sede di formazione accettando una sfida globale o selezionando alcune priorità identitarie o forse ancora parzialmente occultando sotto una patina pedagogica i mutamenti sostanziali di una funzione educativa in cerca di identità nuova che cosa possiamo chiedere a un istituto di formazione e penso alla formazione iniziale ma anche a quella continua c'è stato un tempo in cui abbiamo ritenuto anche sulla scorta di alcuni rapporti compiacenti che il principale problema del docente laureato fosse la sua carente preparazione pedagogico-didattica i docenti erano sì preparati sul piano scientifico disciplinare ma sprovvisti di sensibilità relazionale e di competenza didattica per questo si è costruita una formazione specifica ben presto istituzionalizzata e regolamentata dagli organismi politici la CDPE cioè la conferenza dei direttori della pubblica educazione nella fattispecie ma siamo sicuri oggi che quella impostazione sia ancora valida? Su quali basi lo possiamo affermare? Forse forse che pur senza rinnegare l'utilità critica del pensiero pedagogico non sarebbe il momento di riaggiustare i profili formativi? E ancora non potremmo farlo almeno una volta coinvolgendo gli insegnanti stessi che sono nel contempo oggetto e soggetto della formazione? Si tratterebbe in particolare io credo di evitare un rischio quello di veicolare magari implicitamente magari involontariamente l'idea che l'accesso alla professione sia misurabile con la semplice acquisizione di un'operatività pedagogico-didattica battiamoci invece per evitare questa impropria percezione perché questa non sarebbe cultura bensì riduzionismo pedagogico battiamoci insieme anche perché rischiamo di promuovere una professionalità debole che finisce per appiattire l'insegnante sui paradigmi pedagogico-didattici dominanti battiamoci infine contro le modellizzazioni didattiche i protocolli applicativi le formule standardizzate che quando sono prese a calco professionale diventano nemiche del senso epistemico qualche volta nemiche anche del buon senso e sono l'espressione di un insegnante fragile che ha smarrito per sé prima ancora che per l'insegnamento la sete di sapere e di cultura mi avvio alla fine se non lo facciamo corriamo il rischio di quella che Philippe Merieux e con lui altri studiosi hanno chiamato la proletarizzazione dell'insegnante da uomo di scuola di cultura cui si riconosceva l'indipendenza e l'autorevolezza del giudizio a prestatore di servizio che insegue il soddisfacimento degli appetiti del cliente in realtà ogni insegnante è unico ed è a questa sua unicità che andrebbe ed è questa sua unicità che andrebbe efficacemente declinata guardiamoci dal didattismo che è un pericolo mortale per gli istituti di formazione e soprattutto per gli insegnanti stessi non è un mistero per nessuno i giovani colleghi nelle riunioni dei collegi o in contesti pubblici tendono a stare zitti quasi rifuggono l'idea che un insegnante possa prendere parte attivamente alla riflessione sulle politiche scolastiche sarà un caso o sarà che lo abbiamo involontariamente convinto che la sua professionalità sia altra dall'assunzione di un ruolo civile culturale e intellettuale la mia è una domanda provocatoria come dicevo sia chiaro ma è una domanda che come formatore di insegnanti e devo dire anche come presidente di un'associazione magistrale sono costretto a pormi infine di che maestri abbiamo bisogno oggi a me piace molto la prospettiva definita da Gustavo Zagrebelsky in un suo saggio di qualche anno fa dice Zagrebelsky il maestro è un irregolare un irregolare che cerca una regola che può essere in contrasto con quella costituita un critico uno che mette a nudo un provocatore che attraverso connessioni nuove unioni di tempo di luoghi di pensieri di storie di persone crea continuità contiguità ma anche divisioni rotture ma non però per il gusto delle macerie il maestro è un costruttore che riallaccia i fili dispersi in modo nuovo non so se la si potrà condividere ma credo che sarebbe interessante contribuire con la formazione a gettare le basi affinché ogni insegnante abbia almeno una volta l'occasione di interrogarsi in merito alla sua personale visione del ruolo penso altresì che possiamo trovarci d'accordo sul fatto che un insegnante deve avere carisma fascino intellettuale deve essere testimone intrigante ed empatico del valore emancipatorio della conoscenza può un insegnante che non ama la lettura insegnare a leggere uno che non scrive insegnare a scrivere uno che non si è mai appassionato allo studio insegnare a studiare mi ricordo sempre una massima attribuita a Jean Jaurès filosofo e politico francese del diciannovesimo secolo non si insegna quello che si sa o quello che si crede di sapere si insegna e si può insegnare solo quello che si è io potrei fermarmi qui ma se mi date due minuti aggiungo una postilla devo guardare Sonia c'è un'altra fondamentale questione che andrebbe affrontata alla quale solo accenno per non abusare del tempo che mi è concesso quando parliamo di identità professionale del docente non possiamo sottrarci all'interrogativo corrispondente sulla figura ideale dell'allievo che intendiamo educare in altre parole non possiamo sottrarci alla riflessione critica niente affatto scontata sulle finalità della scuola sì perché nelle aule al di là della proclamata e fuorviante centralità dell'allievo quel che è davvero centrale è la relazione educativa che si istituisce fra un insegnante che come diceva Anna Arendt si qualifica per conoscere il mondo e per essere in grado di istruire altri in proposito e il giovane in formazione la finalità ultima del lavoro educativo al di là di quanto possano recitare da un lato le leggi che vi afferiscono dall'altro i piani di studio in termini di competenza disciplinari trasversali di formazione generale la finalità ultima dicevo mi pare indirizzo che andrebbe costantemente ridiscusso e discusso perché ovviamente definisce anche lo statuto professionale dell'insegnante sappiamo bene che l'educazione oggi è al centro dell'interesse di organizzazioni economiche e imprenditoriali e anche organismi internazionali come l'OSCE l'organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa che riunisce 57 stati partecipanti anche organismi di questo tipo se ne occupano si occupano di educazione proponendo una concezione particolare del valore formativo leggo sulla pagina italiana di OSCE educazione cito gli educatori in ambito scolastico e in altre professioni svolgono un ruolo fondamentale nel attenzione plasmare il comportamento e gli atteggiamenti delle persone all'interno della società saremmo d'accordo con una concezione di questo tipo? ecco una domanda stimolante che io porrei nell'ambito della formazione perché in gioco non sembra più esserci quello che tradizionalmente consideravamo lo sviluppo intellettivo culturale del ragazzo la sua crescita armonica la sua emancipazione in quanto persona bensì un soggetto flessibile del quale si sono appunto plasmati il comportamento e gli atteggiamenti all'interno della società qui si aprirebbe ovviamente un'ampia riflessione di ben altro spessore io invece mi fermo e ringrazio per l'attenzione ringrazio moltissimo Fabio Camponovo anche per aver cercato di rimanere nei tempi io passo subito la parola al prossimo relatore Roberto Saleh che si è laureato in lettere moderne all'università di Firenze è insegnante presso una scuola media del canton ticino e membro della redazione di verifiche dal 2000 rivista per la quale si è occupato a più riprese del mondo della scuola scrivendo numerosi articoli oggi interverrà con una relazione dal titolo la verità effettuale dell'insegnante prego Roberto ringrazio buonasera a tutti sono qui in veste di insegnante e di membro della redazione di verifiche rivista che da più di 50 anni si occupa di scuola oltre che di cultura educazione e società mi sono dunque occupato oltre che di svolgere la professione di insegnante anche di scrivere diversi articoli sulla scuola su chi siano oggi gli insegnanti e quale sia la loro identità e formazione la mia vuole essere una testimonianza di chi la scuola la vive dall'interno da oltre 20 anni che ogni giorno entra in un'aula e che dopo aver chiuso la porta si trova solo di fronte ai suoi allievi confrontato con quella che ho voluto chiamare la verità effettuale dell'insegnante nel breve tempo che ho a disposizione cercherò dunque di rispondere al quesito della giornata di studio nel tentativo di mettere in luce in modo succinto alcuni aspetti critici di questa professione ma anche la sua potenziale bellezza e il sintagma macchiavelliano verità effettuale a orientare il mio intervento la chiave di lettura attraverso la quale analizzare in sintesi alcuni aspetti cruciali dell'essere insegnante oggi tra luci e ombre ma sendo l'intento mio scrivere cosa utile a chi la intende mi è parso più conveniente andare drietro alla verità effettuale della cosa che alla immaginazione di essa e molti si sono immaginati repubbliche e principati che non si sono mai visti né conosciuti essere invero perché egli è tanto discosto da come si vive a come si dovrebbe vivere che colui che lascia quello che si fa per quello che si dovrebbe fare impara piuttosto la ruina che la preservazione sua mi fermo qui con la citazione parafrasando quanto espresso da macchiavelli si potrebbe dire che anche di scuola e di insegnanti si immaginano identità ai modelli i quali vanno poi però verificati alla luce di quella verità effettuale che si evince dalla pratica e dall'esperienza dell'essere insegnante il ruolo stesso dell'insegnante richiede una capacità di analisi e di sintesi che permettono di valutare la qualità del suo operato ma anche di capire e valutare chi sono i referenti del suo agire non solo gli studenti dunque ma anche i familiari di quegli studenti i regolamenti gli statuti che determinano e orientano il suo operato quindi la cornice istituzionale nella quale opera solo però se si immergono nella pratica quotidiana i modelli teorici e i principi generali che sono sempre retti da buone intenzioni almeno così si spera possono essere valutati alla luce della verità effettuale della cosa e non all'immaginazione della stessa chi meglio dell'insegnante può attingere così profondamente dall'esperienza chi meglio dell'insegnante può per citare ancora Machiavelli andare dietro alla verità effettuale della cosa che ha l'immaginazione di essa ed è questa la chiave di lettura che orienta la mia relazione alla luce di quanto detto ne consegue che se partiamo dai modelli cioè da ciò che si vorrebbe che fosse l'insegnante già ci troviamo di fronte a variabili notevoli a volte discordanti nei piani di studio in vano si cercherà un profilo di come debba essere un insegnante non è un caso che si attenda ancora oggi un profilo che sia ufficiale riconosciuto di questa figura professionale dopo un maldestro tentativo fallito e un nuovo profilo elaborato che però si è renato nelle sabbie della burocrazia inoltre sarebbe utile capire se esiste un modello preciso di insegnante nell'attuale sistema di formazione e se questo esiste quale esso sia se partiamo dalla sua etimologia sappiamo che insegnante come già stato detto molto meglio di me deriva da insegnare e vuol dire segnare dentro cioè lasciare un segno nella mente del discente essere un modello formativo non effimero capace di assumere una certa solidità all'interno di un modello predominante che come è già stato detto bene estremamente cangiante e fragile e in assenza di un profilo riconosciuto e condiviso dell'insegnante sarà bene partire almeno da questa prima definizione derivante dal nome stesso che lo definisce e che può essere credo sicuramente condivisibile inoltre nei contesti di studio quando si ragiona sulle qualità necessarie a qualificarne la figura professionale emerge che all'insegnante sono necessarie le seguenti qualità autorevolezza carisma tatto giustizia benevolenza empatia in particolare mi riferisco all'ultimo convegno tenutosi all'usi lo scorso novembre dal titolo l'insegnante fra autorità e libertà e alla tesi sostenuta dal filosofo francese dell'educazione Eric Prerat dell'università della Lorena dunque l'insegnante è colui il quale è in grado di lasciare un segno dentro la mente dei propri allievi tale da permetterne una crescita morale e intellettuale per riuscire a instaurare con loro un rapporto di stima e riconoscimento e diventare contatto un modello autorevole e carismatico esercitando giustizia e benevolenza ma cosa succede se immergiamo questi principi e questi modelli nella pratica quotidiana e nel contesto reale in cui si esercita la professione di insegnante che riprendo Machiavelli colui che lascia quello che si fa per quello che si dovrebbe fare impara piuttosto la ruina che la preservazione sua allora si scopre che esistono spinte che favoriscono e controspinte che tendono a annullare lo sforzo sia nel contesto sociale che potremmo considerare esogene e controspinte però di natura endogena cioè legate ai regolamenti e alle scelte di politica scolastica nonché di formazione degli insegnanti i fattori esogeni ovviamente non li passerò tutti ne passo qualcuno il contesto sociale non è difficile constatare come l'autorevolezza della professione si sia via più indebolita e il riconoscimento sociale che ne deriva anche con ricadute pesanti sul comportamento degli allievi già questi due fattori da soli rendono sempre più difficile conquistare autorevolezza la fragilità dei punti di riferimento cioè la cosiddetta società liquida che è già stata citata la patologia della memoria umana a vantaggio di quella virtuale sono altri due grandi ostacoli che si frappongono alla capacità dell'insegnante di lasciare un segno le disparità socio-economiche sempre più rilevanti si uniscono a quelle relative a differenti culture che si devono integrare e interagire in un contesto sociale non sempre immune da intolleranza per raggiungere l'equità e l'inclusione che sono le finalità principali della scuola dell'obbligo ticinese occorre esercitare giustizia con forza e autorevolezza fattori endogeni il principio che orienta la scuola pubblica ticinese cioè l'inclusione prevede o si pone l'obiettivo di ridurre al minimo le differenze di natura socio-economica e di fornire a tutti una cultura di base per affrontare il futuro questo è un punto cardine l'insegnante per esercitare giustizia dovrà tener conto delle disparità e delle conseguenze che ci potrebbero essere in nome dell'inclusione alla luce della verità effettuale inoltre l'adesione ad Armos ha comportato un notevole cambiamento di paradigma del sapere inteso prima come cultura generale mentre adesso si misura attraverso i traguardi di competenza sono già state fatte molte riflessioni in merito interessa piuttosto qui evidenziare come l'insegnante dotato di una cultura umanistica necessaria raggiungere autorevolezza e carisma si trovi confrontato adesso con un linguaggio e una terminologia appartenenti a un altro modello di cui andrebbe verificata l'efficacia nel tempo negli ultimi anni si assiste inoltre ad una progressiva medicalizzazione degli allievi che si manifesta attraverso una certificazione medica crescente delle difficoltà sul piano degli apprendimenti che danno luogo a nuove misure e a nuove figure tese a affiancare l'allievo durante l'attività didattica tutto ciò è mosso senz'altro da buone intenzioni ma alla luce della verità effettuale della cosa ne deriva che a volte danno luogo un uso abnorme quasi bramato di una certificazione e a volte si traducono in bontà eccessiva persino controproducente non di rado rendono più difficile il raggiungimento delle finalità che abbiamo visto essere necessarie all'insegnante termino come fattore endogeno principale di affaticamento dell'insegnante la burocrazia in crescita costante quindi viste sommariamente le forze di diversa natura che influenzano e interferiscono a volte si oppongono allo svolgimento del ruolo e all'adempimento di quelle finalità essenziali dell'insegnante appena illustrate ne consegue che se riconosciamo all'insegnante la necessità di essere una figura autorevole giusta e capace di segnare dentro dobbiamo individuare a mio parere un'ulteriore qualità che sempre più dovrebbe connotare il suo profilo e cioè la resistenza o perlomeno la resilienza nel senso letterale del termine intendo quella capacità di operare scelte coraggiose anche in direzione ostinata e contraria per citare De Andrè qualora queste fossero necessarie al fine di perseguire giustizia oppure per essere autorevole verso chi non si fida riuscendo a conquistare il rispetto e la credibilità con il proprio modo di essere e di ragionare il primo insegnamento di un insegnante è l'insegnante stesso diceva credo Levinas se non vado errato e quindi è necessario essere resistente o resiliente per assicurare anche l'equità e l'inclusione perseguite dal principio fondatore della scuola in un contesto in cui alla luce della verità effettuale si osserva che gli allievi appartenenti a classi privilegiate possono risultare estremamente più persuasivi nei confronti dell'insegnante non resistente per quanto riguarda per esempio la valutazione momento topico in cui si esercita un atto di giustizia Estrapolo da Machiavelli ancora una metafora la metafora è quella dell'arciere che per colpire il bersaglio dovrà puntare molto più in alto del bersaglio stesso cito e fare come gli arcieri prudenti ai quali parendo il loco dove designano ferire troppo lontano e conoscendo fino a quanto va la virtù del loro arco pongono la mira assai più alta che il loco destinato non per raggiungere con la loro freccia tanta altezza ma per potere con l'aiuto di si alta mira per venire al disegno loro cioè centrare il bersaglio allora anche l'insegnante per essere incisivo dovrà opporsi le derive che colpiscono il suo operato quali il possibile impoverimento del livello di insegnamento e piuttosto puntare molto più in alto del limite fissato onde centrare l'obiettivo di insegnare osando andare oltre i limiti delle definizioni normative e delle sollecitazioni sociali ed è questa la bellezza della professione a mio parere che regala grandi soddisfazioni quando si percepisce di aver costruito una relazione fondata sulla crescita morale intellettuale dell'allievo con empatia e autorevolezza lungo il tempo dopo la metafora estrapolo da Machiavelli un modello di ragionamento non me ne voglia il modello di ragionamento è quello definito come dilemmatico propagginato cioè quel metodo usato ampiamente nel principe che si sviluppa per coppie oppositive che a loro volta danno luogo a conseguenze anch'esse poste in alternativa e io ho costruito la mia ed è la seguente l'insegnante o è resistente o non è resistente se è resistente ne deriva che se non è resistente ne deriva che lascio a voi congetturare sulle conseguenze possibili nei due casi termino dicendo che i temi appena sfiorati e altre tematiche sulla scuola che c'è qualora vi interessassero li troverete sui prossimi numeri di verifiche in cui intendo affrontarli e approfondirli ulteriormente grazie ringraziamo ringraziamo Roberto Sale che per l'interessante relazione presento la prossima ospite Nunzia Conte Giacometti laureata in filosofia all'Università Cattolica di Milano per anni ha lavorato anche come giornalista anche qui in Ticino oltre che come docente dal 2017 è presidente della federazione docenti ticinesi per la quale da qualche anno cura la rivista Risveglio interverrà con la relazione dal titolo la figura del docente no scusami chi non sa fare insegna la figura del docente tra pregiudizi e luoghi comuni di ieri e di oggi prego grazie ecco qui i luoghi comuni si sa sono difficili da smontare servono a poco i ragionamenti ma non bastano nemmeno i dati concreti scientifici di pregiudizi sulla professione del docente ce ne sono alcuni che conoscete bene parto da quello citato nel titolo di questo mio intervento chi sa fare fa chi non sa fare insegna in questo detto si sottolinea l'incapacità del docente di fare creando una contrapposizione tra fare e insegnare ma esiste davvero questa antitesi la scuola pubblica ticinese muove i suoi primi passi nell'ottocento in una società povera con un'economia limitata che obbliga la popolazione a una vita di grande fatica si deve fare ci si deve sporcare le mani bisogna sgobbare nei campi e poi col trascorrere dei decenni e lo sviluppo delle prime attività industriali si deve sudare nelle fabbriche eccolo il fare un'attività faticosa pesante che riesce a produrre segni tangibili che siano frutti della terra dell'allevamento dell'attività industriale che cosa produce invece il maestro parole pronunciate davanti alle classi scritte alla lavagna o sui libri non c'è paragone non c'è storia in questo confronto perché non suda chi se ne sta seduto in cattedra a parlare non stupisce dunque che i maestri siano visti come coloro che non sanno fare e si limitino a insegnare maestri che non sono certo ben pagati o apprezzati per il loro lavoro tant'è che verso la fine dell'ottocento nel 1895 nasce la prima associazione magistrale del nostro cantone la federazione docenti ticinesi appunto che cerca di migliorare le condizioni salariali e di lavoro degli insegnanti portando avanti rivendicazioni che poi diventeranno il campo d'azione dei sindacati in particolare con la creazione delle sezioni specificamente rivolte ai docenti ma perché questo detto che trova le sue radici in un mondo molto diverso da quello di oggi è ancora attuale perché i docenti sono ancora visti come persone che non sanno fare insegnare non è fare se andiamo all'origine etimologica della parola insegnare è stato appena detto vediamo che deriva dal latino insegnare ossia imprimere segni cos'è un segno? in un articolo dal titolo il latino che lascia il segno pubblicato sul sole 24 ore nel 2018 Nicola Gardini saggista romanziere docente a Oxford scrive io ho affetto per la parola segno ci sento promessa di espansione volontà potenza è una parola forte ricca perfino nel suono e spiega che il capostipite latino signum è ricollegabile alla radice del verbo secco taglio e secondo tale etimologia un'incisione una tacca un marchio il signum si aggiunge alla superficie del reale come una ferita segno può essere qualunque cosa un segno sicuro o no che sia lontano o no che sappia condurci è strumento primario di conoscenza più segni siamo in grado di individuare più sapremo capire del mondo dunque possiamo dire che insegnare è fare anche se i segni che si lasciano negli allievi non sono immediatamente visibili come a scrivere ad esempio Jacques Barzun e il suo libro Insegnante in America del 1945 quando afferma che nell'insegnamento non si può vedere il frutto di una giornata di lavoro è invisibile e rimane così forse per vent'anni possiamo allora pensare che la scarsa considerazione di cui quel luogo comune è espressione sia proprio nella difficoltà di vedere i frutti del suo fare eppure quei frutti ci sono quante volte i docenti con qualche anno tanti anni come me di esperienza alle spalle è capitato di sentirsi chiamare e di vedersi davanti donne e uomini ormai adulti nei quali si fa fatica a riconoscere le fattezze di giovanissimi che sono stati i nostri allievi e quante volte sentendoli raccontare qual è stato il loro percorso di vita successivo alla scuola si scopre che quel segno l'abbiamo lasciato che c'è ancora che è rimasto nelle loro menti nei loro animi li ha aiutati li ha stimolati li ha spinti a cercare la loro realizzazione io credo che questo basti a dimostrare che l'insegnante fa magari non sarà chiaro per molti ma per chi sceglie questa via come siete amori con la chiara consapevolezza di quale deve essere il proprio ibertivo credo proprio che sia sufficiente e veniamo a un altro luogo comune forse il più fastidioso perché si fa fatica a dimostrare che non corrisponde a verità gli insegnanti sono sempre in vacanza è vero che sono sul posto di lavoro meno di quanto facciano altri lavoratori e un fatto non può essere contestato pur aggiungendo le ore occupate in riunioni consigli di classe e colloqui con genitori o allievi non si poreggiano i conti con altre categorie professionali le cose cambiano se si aggiunge il tempo impiegato ad aggiornarsi attività non facoltativa ma assolutamente essenziale le ore passate a costruire il materiale didattico necessario per l'insegnamento a correggere la mole di elaborati scritti prodotti dagli allievi a redigere i giudizi le settimane di scuola così farcite si possono senza dubbio equiparare a quelle di qualunque altro lavoratore quello che però colpisce chi la scuola la guarda dal di fuori sono le lunghe vacanze estive o quelle che interrompono i mesi di scuola sono davvero necessarie? permettetemi di riferire a un episodio personale con una delle mie quarte avevo organizzato una giornata un po' particolare che vedeva la presenza in aula di un giornalista con il compito di spiegare a piccoli gruppi otto dieci allievi circa come fare un'intervista aiutandoli a individuare le domande e poi ottenuto le risposte scrivere anche l'articolo il tutto era spalmato su un'intera giornata di scuola quindi dalle otto del mattino più o meno alle quattro e mezza del pomeriggio pausa naturalmente da fare ciascuno a casa propria il giornalista in questione era mio marito tornati a casa mi ha guardato e mi ha chiesto ma come fai a farlo tutti i giorni io sono distrutto e dire ed ero molto contenta di questo che gli allievi erano stati davvero bravi erano molto interessati e avevano apprezzato quell'attività eppure lui era distrutto che cosa aveva prodotto dunque quella stanchezza e allora l'ho intervistato io e la risposta è stata chiara il continuo confronto con le persone la necessità di essere sempre attenti concentrati di badare a tanti aspetti contemporaneamente il rapporto con gli allievi è un aspetto fondamentale dell'attività del docente è una relazione complessa che coinvolge non solo l'aspetto squisitamente didattico ma tocca corde più profonde non ci sono regole o formule che vadano bene per tutti ogni docente deve trovare la propria cifra purtroppo non sempre funziona bisogna anche accettare che a volte non si riesce a stabilire un rapporto profico con alcuni allievi e per esperienza so che in quei casi l'insegnamento diventa difficile e faticoso ma sono le occasioni in cui ci si può interrogare e riflettere per provare a essere più efficaci quando una tale situazione si ripresenterà ecco spiegato il perché quelle vacanze che a molti sembrano troppe per un docente sono essenziali insegnare significa essere costantemente allerta essere pronti a rispondere alle domande a stimolare la curiosità degli allievi a percepire le loro debolezze a comprendere le loro esigenze è un lavoro logorante se fatto con piena consapevolezza di quanto sia delicato e importante se è svolto con coscienza se è un atto di ascolto dell'altro ed è un lavoro faticoso perché coinvolge la mente e l'animo e rende necessario un adeguato periodo di riposo in cui ricaricarsi ho parlato un po' di questo argomento ma dubito che si possa convincere chi docente non è perciò visto che si parla di vacanze mi rifugio nei classici nel concetto di ozium nel mondo latino contrapposto al negozium ossia all'attività commerciale in particolare o ad altri uffici svolti per il bene della città l'ozium indicava il tempo dedicato alla contemplazione al nutrimento del proprio spirito nell'antichità a seconda del personaggio che ne ha trattato da Cicerone Ovidio assunto significati un po' diversi ma è Seneca che nel primo secolo dopo Cristo ne approfondisce il senso e la funzione ritenendo l'ozium il momento che ci spinge a porci delle domande esistenziali rivolgendo lo sguardo al mondo e agli uomini oppure alla propria anima con il trascorrere dei secoli la concezione di ozium si è via via modificata fino ad assumere un significato dispregiativo indicando un vuoto e sterile far niente un cambiamento dettato da una vita e da una società segnata dalla velocità e dal pragmatismo sociologi e filosofi da tempo ormai attirano l'attenzione sui danni provocati dall'accelerazione impressa la vita del singolo negli ultimi decenni tutto viene fatto in fretta molto più velocemente che in passato ma curiosamente siamo sempre alla ricerca di altro tempo ce ne vorrebbe sempre di più e in questo vortice di attività si finisce per perdere la capacità di fermarsi e riflettere su ciò che siamo e ciò che facciamo si potrebbe individuare in questa evoluzione o involuzione un parallelismo con il modo di vedere la filosofia che da conoscenza suprema qual era l'origine ha soprattutto nei tempi più vicini a noi perso questo valore ed è percepita come qualcosa di inutile superato obsoleto decisamente ma la tempora currunt se i criteri di giudizio sono quantitativi e materiale se il docente è visto da molti come una persona che lavora poco e non produce nulla consola per esperienza personale lo sguardo e l'agire di molti allievi che accolgono le nostre parole e le rendono il nutrimento della loro mente consola scoprire all'improvviso in una voce lontanamente familiare che ci blocca a me è capitato di recente il parcheggio della Mingros nel volto aperto e sorridente di un giovane adulto nelle parole che corrono a tempi ormai passati e esperienze condivise consola scoprire che abbiamo lasciato un segno e siamo stati maestri bene ringraziamo anche Lunziaconte Giacometti introduciamo l'ultimo ospite di questa sezione che è Omar Gianora laureato in biochimica al Politecnico Federale di Zurigo da oltre 20 anni è stato per oltre 20 anni in direzione ricoprendo per 12 anni l'incarico proprio di direttore dell'Iceo di Belinzona sede dove ancora attualmente insegna esperto anche per gli esami svizzeri di maturità federale interviene con una relazione dal titolo Prof 4.0 buongiorno a tutti partirei proprio da dove la signora Conte ha terminato e vorrei partire raccontandovi alcune storielle settimana scorsa era bello ero stufo di avere la mascherina perché insegnare con la mascherina con gli allievi con le mascherine è pesante e allora sono uscito per fare quel gesto di respirare e togliere la mascherina mi sono incamminato e a un certo punto mi viene incontro una signora con una carrozzella con una bambina di due anni seduta sulla carrozzella a colpirmi sapete cosa è stata la mamma aveva in mano un cellulare e nel frattempo stava parlando nel cellulare ed era molto molto dentro questa discussione la bambina tranquillamente due anni e mezzo stava usando beatamente felicemente il cellulare allora per non disturbare però incuriosito mi sono fermato i bordi e ho guardato dieci minuti è andata avanti la scena torno a scuola sto per entrare a scuola e vedo un gruppo di allievi e di allievi che sono tutti riuniti apparentemente a discutere tra di loro no? di qua che bello vado là e mi accorgo che ognuno di loro è all'interno di un gioco d'azione non ben identificato e ce n'è solo uno non appartato e gli dico e tu cosa fai? io sono lo sconnesso e allora davvero io mi hanno interrogato queste due immagini no? e mi hanno fatto ripensare alla parabola di Wallace dove l'acqua è sostituita da questa soluzione tecnologica forse qualcuno di voi ricorderà la parabola di Wallace questa storiella del pesce anziano non preoccupatevi non sono il pesce anziano che viene qui a dirvi che è il prof 4.0 cosa dovete fare però la storiella dice questo c'è questo pesce anziano che nuota in un bel corpo lacusse gli vengono incontro due pesci e allora lui gli dice salve com'è l'acqua e loro si guardano e gli dicono ma che cos'è l'acqua? allora giustamente adesso potrete chiedervi cosa c'entrano queste due storielle con il tema che è prof 4.0 ticinese beh vorrei innanzitutto segnalarne due aspetti che sono centrali il primo è che ci ricordano che anche noi docenti siamo immersi in questa soluzione tecnologica condizionante dalla quale siamo condizionati e probabilmente non ce ne rendiamo neanche conto e il secondo aspetto è quello che ci può far riflettere sul concetto del valore del tempo quello per intenderci di qualità sull'importanza che ha in quelli che sono i processi di apprendimento sì concordo forse sono considerazioni scontate ma forse sempre permettetemi potremmo per un attimo pensare che le cose scontate non per forza siano da ritenersi banali soprattutto ai tempi e ai modi di far scuola in futuro sarà scontato ma non è banale che io sia formamente convinto che è molto bello insegnare credo che non sia scontato e banale dire che è impegnativo insegnare credo che non sia banale e scontato dire che mi piace andare in aula a fare il maestro e spero che anche voi tutti ne avrete la possibilità di avere la vostra classe perché è un ambiente stimolante perché sei sempre in contatto con le generazioni X più cioè quelle che verranno e allora non è banale dire chi è cosa fa quale competenze sono richieste cosa deve saper fare il professore 4.0 ticinese magari ne discuteremo durante la tavola rotonda io credo che sia opportuno farsi una serie di domande il tempo è tiranno ne ho messe molte ne scelgo due quelle che scelgo sono queste due insegnare al tempo del prof 4.0 e post 5.0 6.0 7.0 l'iPhone credo che sono 13.0 adesso come in passato potrà non comportare quell'abilità di mettere lo studente nella condizione di imparare e seconda domanda sapremo riapproparci di quel tempo di qualità per fare le cose davvero importanti per la nostra professione non so quanti di noi abbiano vissuto da studenti ne ho fatte due di abilitazione qui quindi so quanto interessante ma anche quanto impegnativo è dicevo abbiamo vissuto da studenti e da docenti la sensazione che in alcuni momenti è davvero forte il carico di lavoro quella sensazione di mancanza di tempo per far bene le cose continui sviluppi delle tecnologie informatiche invece di regalarcene sembrerebbe quasi che ce ne tolgano pensiamo a zoom zoom è un vantaggio a zoom mi permette di non venire da Semione fino a qui 52 chilometri per fare andare e poi 52 tornare questo è interessante però quando zoom ti toglie quei momenti importanti dove è necessaria la relazione quando il tempo vuoto viene riempito magari facendo due rignoni invece che uno capirete che c'è probabilmente qualcosa su cui riflettere e allora sarà che sono della generazione del Commodore 64 so che il tempo su questo orologio qui continua a scorrere con la stessa dinamica però io ogni tanto ho l'impressione davvero di avere una percezione di velocità cambiata del tempo che scorre e soprattutto dopo aver vissuto questi anni impegnativi in regime Covid credo di aver sentito ancora di più l'esigenza di essere igienicamente pulito nella gestione del tempo e credo davvero che sia proprio nel riappropriarsi consapevolmente di un tempo di qualità che si giochi una tra le più importanti sfide future delle generazioni di prof X.0 riflettere su ciò che facciamo eccolo avere il tempo un tempo che ci è dato per riflettere su quello che facciamo però se dobbiamo riflettere su quello che facciamo io credo che sia determinante essere consapevoli che noi abbiamo bisogno di un tempo fisiologico per noi stessi perché ciò favorisce un sano e duraturo equilibrio lungo la nostra lunga impegnativa carriera professionale e per dare continuità al nostro lavoro tempo per riflettere per preparare bene le lezioni perché è attraverso e quando hai tempo molto spesso è l'estate perché noi docenti siamo così tu hai tempo libero e lo occupi e lo occupi per far cosa molto spesso per preparare le lezioni perché perché ti piace è scontato lo so ma per tantissimi di noi è così e direi anche tempo per riflettere sul tempo che è necessario agli allievi per realmente apprendere perché anche loro mi sembra che abbiano una giornata disordinata e ci vuole tempo per apprendere e poi ne potrei citare tanti tre prima di avviarmi alla conclusione io credo che sia indispensabile avere tempo per aggiornarsi affinché lo si senta come necessario piuttosto che un compito burocratico credo che sia anche necessario un tempo per aver piacere in quello che si fa anche in quei momenti che magari la vita ci mette di fronte a temporanei cambiamenti di priorità e da ultimo ma non per ultimo credo che sia importante tempo per essere connessi con la società ma per essere allo stesso tempo sconnessi così da favorire quella capacità di offrirsi sempre delle scelte e di un utilizzo di un sano metodo socratico nelle scelte di principio l'elenco avete capito potrebbe continuare ma io mi fermo qui con una terza storielle mi riguarda ieri sera ho guardato il telegiornale perché dopo il telegiornale c'è la meteo in realtà domenica volevo andare a sciare volevo vedere se ne valeva la pena se era bel tempo o no allora io sapevo che oggi sarei venuto qui a raccontare questo tema però interessante perché non sapevo che dopo il telegiornale c'era la pubblicità allora come un falco quando è uscita la pubblicità ho preso il telefono e sono andato a vedere se avevo dentro delle mail ma che insegnamento penserete vengo qui a dare se io stesso e riderci su che sono consapevole dell'importanza del tempo per far andare il cervello lo occupo è vero però ancora un'altra cosa è forse banale questa conclusione scontata ma non sempre le cose banali scontate sono quelle che poi non ci si deve confrontare forse che riappropriarsi di un tempo di qualità sia in realtà più facile a dirsi che a farsi ringrazio dell'attenzione magari su questo aspetto potremo parlarne più tardi grazie grazie anche a Omar Gianora per questa interessante relazione abbiamo poco tempo ma qualche minuto comunque direi che possiamo prenderlo inviterei gli ospiti di questa sessione a salire sul palco e a prendere posto in una delle poltrone nel frattempo darei la parola al pubblico faremo questa tavola rotonda dando risposta rispondendo a eventuali appunto domande che emergeranno da voi la nostra collaboratrice Cata giusto porterà il microfono ecco a chi chiederà la parola grazie vediamo se c'è qualche domanda alzate bene la mano altrimenti magari non vi vediamo gli spunti sono molti non è facile a caldo diciamo fare una domanda che poi ciascuno di noi reputi adeguata e pertinente davanti anche a una platea così numerosa allora rompo io il ghiaccio nel frattempo che magari qualcuno è ancora l'occasione per ripensare e così per fare un intervento abbiamo sentito in una prima relazione di Rolf Bossart parlare di visione idealistica poi in altre relazioni come quella di Nunzia Conteggiacometti invece parlare di luoghi comuni storici ma anche attuali dell'insegnante del futuro con Omar Gianora e via dicendo e anche Roberto Salec e Camponova hanno parlato di realtà effettuale ecco mi domando quanto è ancora utile oggi rievocare questa visione ideale legata anche a una vocazione dell'insegnante è ancora necessario per identificare chi sono gli insegnanti quanto è importante ancora oggi questa dimensione della vocazione e di una propensione ideale verso la professione lascio rispondere chi degli ospiti avrà il piacere di farlo non funziona io credo che sia essenziale avere un ideale l'ideale comunque deve informare un'azione poi all'ideale cercheremo di avvicinarci in un modo proprio ognuno di voi troverà una strada moltissimi di voi siete tutti qui in formazione cercate di arrivare appunto ad avere degli allievi ad avere delle classi ad avere dei ragazzi su cui come dicevo prima lasciare un segno se non abbiamo degli ideali non riusciamo nemmeno a fare ciò che è nelle nostre possibilità perché poi ci manca un termine di paragone adeguato bisogna mirare all'ottimo per avere il bene grazie qualcun altro vuole magari approfittare grazie Fabio è acceso così non so se rispondo esattamente alla domanda sull'idealità io so che ogni volta che iniziavo un corso di didattica con studenti potenzialmente interessati all'insegnamento e nel mio caso si trattava dell'italiano io ponevo loro questa domanda anzi erano tre la prima era perché voi avete studiato italiano la seconda perché pensate che uno studente un ragazzo debba studiare italiano e la terza perché voi pensate di insegnare italiano perché dico questo perché una cosa che mi fa paura è ogni tanto lo si sente la il desiderio di un ragazzo di dire mi piacerebbe insegnare ecco ma insegnare è un verbo transitivo mi piacerebbe insegnare qualcosa quel qualcosa deve essere in me io devo provare piacere nel praticare quello che voglio insegnare non so se questo è idealità ma è una condizione sine qua non se non credo e se non vivo con piacere la matematica non potrò insegnare la matematica se io stesso non sono testimone del piacere della lettura di un testo potrò avere mille protocolli per preparare una lezione ma non sarà mai una lezione che io partecipo e che sarà a sua volta partecipata ecco allora si può trovare forse più che un ideale una ragione nell'insegnamento se questo che si fa lo si sente come una caratteristica propria e lo si ama condividere se ci sono queste condizioni allora la professione diventa una professione interessante prova un sentenza in italiano credo che gli insegnanti di oggi devono essere esperti non solo esperti ma artisti dell'immaginazione dell'immaginazione di tutte le possibilità dell'umano nel malo nel bene nel tradizione nel futuro artisti dell'immaginazione se posso aggiungo ancora io una cosa la mia generazione è una generazione che quando ha cominciato a insegnare e non lo dico per scherzo pensava che attraverso l'educazione avrebbe cambiato il mondo ciò che mi fa paura è che oggi si pensi di cominciare a insegnare perché quello è un mestiere come un altro cerchiamo di recuperare almeno questa motivazione forte io sono persona che lavora con persone e attraverso il mio lavoro penso di cambiare in meglio quelle persone ecco chiedo magari ai convenuti se qualcuno vuole intervenire con una domanda ecco grazie salve posso togliere la mascherina un secondo scusatemi ringrazio tantissimo il relatore in particolar modo il professor Salek che ho avuto anche il piacere di avere come DPP mi rivolgo direttamente a lui per l'intervento che ha fatto parlando di Machiavelli e della realtà fatuale un aspetto che chiaramente qui non c'era modo di approfondire era il fatto che quella di Machiavelli era una critica a un genere letterario molto diffuso in quel tempo che era l'utopia e lui contraponeva appunto questa realtà fatuale proprio alle utopie perché era stufo insomma di questi mettiamola così di questi scrittori che si immaginavano queste repubbliche utopiche e così via però al contempo senza quelle utopie senza quelle realtà immaginate mi viene da dire che forse non avremmo la società che abbiamo oggigiorno premetto che non sono una grande amante di Machiavelli ecco in confronto al professor Sale che so che insomma stimo molto questo autore però senza nulla togliere quello che ha detto che condivido appieno secondo me anche questa dimensione del sogno dell'utopia di cui parlava anche il professor Camponovo dell'idealismo anche se utopia oggigiorno ha assunto una connotazione diciamo negativa ecco a me piace richiamare proprio il senso originario di questo termine che si rifà chiaramente la letteratura del 1500 non solo ma secondo me l'insegnante e la scuola stessa dovrebbero continuare a mantenere questa dimensione chiamiamola ideale chiamiamola utopica chiamiamola come vogliamo però non dovrebbe semplicemente limitarsi a diventare appunto la scuola del pragmatismo tutto qua grazie ti ringrazio per la domanda e sapevo benissimo che quando che tirar fuori dei concetti da Machiavelli era camminare sulle uova ma quando parlo di resilienza o resistenza meglio resistenza intendo dire proprio di recuperare quella dimensione utopica che nella verità effettuale non può esistere in quanto è un metodo di indagine di una situazione precisa come o di un sistema in questo caso la scuola che abbiamo partire da questa da questo metodo da questa chiave di lettura machiavelliana senza perdere l'elemento utopico necessario alla professione e nella parola nel termine resistenza ci stava l'espulsione dell'elemento utopico all'interno della sintagma machiavelliana verità effettuale è ovvio che per resistere a contropressioni lo possiamo fare solo se abbiamo in testa un modello ideale che vogliamo raggiungere un'utopia e mai come nell'insegnamento è necessario avere questa dimensione utopica comunque grazie per la domanda magari c'è qualche altro intervento allora sembrerebbe di no quindi io cederei la parola ad altri a un altro ospite che sarà accompagnato l'ospite scusate Giancarlo Visitilli sarà però accompagnato e presentato dalla collega Magda Ramadan per questa discussione finale che poi concluderà anche la giornata di oggi quindi vi ringrazio e noi torniamo al posto grazie 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 Grazie. Ok, ce l'abbiamo fatta. Bene, arriviamo a questo momento conclusivo dell'incontro di oggi ed è un grandissimo piacere accogliere Giancarlo Visitilli, che ci ha raggiunto da Bari, che ci porta uno sguardo plurimo. Oggi abbiamo sentito contributi che arrivavano dalla sociologia, dalla pedagogia, dalla filosofia e abbiamo sentito invece i contributi da uomini e donne di scuola che ci hanno portato il loro sguardo, la loro visione. Giancarlo ha il grandissimo pregio di essere un insegnante che insegna in una scuola media superiore in Italia, italiano, latino e storia. È al contempo però giornalista, è al contempo scrittore ed è anche al contempo critico cinematografico. E in più, e forse questa è una cosa a cui lui tiene particolarmente, è anche membro attivo all'interno di una cooperativa sociale che si chiama Bambini di Truffo, di cui poi magari avrà occasione di raccontarci. L'idea adesso è quella di fare un dialogo e abbiamo identificato alcuni passaggi che così ci guideranno un po' in questo momento e direi di partire subito con il primo aspetto che peraltro è l'ultimo che avevamo selezionato e quindi spero... eccolo qua. Allora, dicevamo, la scuola errante insegna a sbagliare. Sì, innanzitutto grazie per l'invito e per questa giornata. Vorrei andarmene, tornarmene giù a Bari, felice però, perché ho paura che sia tutto abbastanza triste rispetto alle cose che ci stiamo dicendo. Non è così triste la bellezza del nostro lavoro, lo dicevo qualche collega prima di me. Sì, riprendo un po' delle cose che ho ascoltato e che mi porto nella mia saccoccia. Alberto Piatti parlava stamattina, il direttore parlava di inadeguatezza, ignoranza e non aver paura di esprimere la propria umanità. Sì, è questo l'insegnare. E la possibilità che abbiamo di prenderci il lusso in quel luogo che chiamiamo scuola di sbagliare. E mi piace pensare all'insegnante come all'errante. L'errante è colui che va. E se va, cade. Chi cade però va. Nel senso che questo lusso evidentemente non ci è più consentito, perché dobbiamo essere tutti perfetti, facciamo la formazione per essere perfetti, per sapere tanto l'inadeguatezza. Bellissimo il senso dell'ignoranza. I filosofi, il mondo classico ce lo insegna. C'è un titolo di un film bellissimo che io amo, lo chiamavano Gig Robo. Ecco l'insegnante. Colui che è capace di piegare i termosifoni, ma poi a un certo punto si scioglie in lacrime dinanzi all'amore. E quello che noi facciamo è un processo d'amore che che non è retorica. Cioè quello che facciamo nelle aule non è facciamo finta che. È un fatto reale. E mi piace pensare, l'ho scritto in un libro, mi piace pensare all'aula come a un ring. E anche quello l'ho preso dopo aver visto la decima volta Million Dollar Baby, che è un film che amo. Il ring. Il ring forse è negativo perché ce li si dà. Si fa botte. Però c'è una bellissima cosa nel ring. Il bordo. Ciflette. Io ogni mattina sono illuso di andare dai miei studenti prima declinazione, Leopardi, Machiavelli. In realtà ci tornano. E la cosa bella del ring è che quelle molle quando ce le diamo, quando ce le suoniamo, ci fanno tornare sempre al centro del luogo, al centro del discorso. Sandro Catacin diceva essere autentici. Credo che questa dovrebbe essere la più grande strategia pedagogica. E credo in Italia c'è tanta narrativa che lo racconta. Noi viviamo una crisi educativa terribile e credo che ci sia carenza di credibilità educativa. La credibilità educativa me la gioco nel momento in cui non faccio respirare ai miei studenti l'autenticità che si paga. e non è solo questione di conoscenza e competenza di ciccia e scheletro perché la ciccia e lo scheletro va bene ma se alla ciccia e lo scheletro mancano per citare un testo meraviglioso che ha vinto Sanremo brividi a poco serve lo scheletro e la ciccia. Quello che noi dobbiamo fare è provocare brividi nel senso che tutto quello che noi insegniamo dalla matematica più difficile per il direttore a noi che insegniamo italiano latino la fisica è provocare emozioni quindi insieme alla ciccia e allo scheletro io mi auguro che ci siano le vene ci sia il sangue ma in questo senso si è spento si è spento ecco no è tornato dalla regia grazie ma in base invece proprio a questa questa dimensione così fortemente emotiva di cui stai parlando c'è la la parola chiave è care allora l'insegnante oppure Giancarlo Vizitilli insegnante come si giostra col suo mondo interiore con con l'approccio a quei brividi allo stare con i ragazzi un lungo cammino di psicoterapia io ho ho fatto no che ho fatto su me stesso nel senso che per fare il lavoro di io ho fondato una cooperativa sociale che si occupa di bambine bambini adolescenti che si chiama i bambini di truffo e tra queste bambine l'esperienza più forte che faccio da sei anni abbiamo avuto in affidamento tredici bambine ex prostitute con cui stiamo facendo un percorso meraviglioso la cura la cura ecco forse sono notevolmente aiutato da questa doppia visione che ho rispetto ai bambini e alle adolescenti ma non voglio parlare in teoria è stato anche c'è stato un passaggio di un relatore che diceva il discorso appunto della cura in tutti i comandamenti del in tutti in tutte le religioni o anche nelle filosofie orientali esiste quel comandamento dell'amore che dice ama il prossimo come te stesso peccato che a noi insegnano a fare i croci rossini cioè ama gli altri e poi pensa a te stesso ecco nel nostro lavoro è certo ecco il mio cammino di psicoterapia su di me che se io non non mi voglio bene non può funzionare nessun rapporto dialogico neanche col mio uomo o la mia donna quando penso all'idea di quello che facciamo in aula se io non sto bene i ragazzi lo respirano se ne accorgono non posso prenderli per i fondelli se ne accorgono per cui devo star bene devo star bene significa che per fare questo mestiere non è che devo essere ogni giorno felice perché è impossibile ma devo sforzarmi di essere quello che sono la credibilità e io ho imparato anche attraverso il mio maestro di psicoterapia a dire quando stai male perché funziona ho fatto un'intervista per il giornale con cui collaboro un paio di anni fa a Walter Mauro Walter Mauro è stato uno dei più grandi critici letterari italiani e l'ho incontrato per tre volte l'ultima intervista mi ha svelato una cosa incredibile e mi ha detto ma mi spieghi perché quando spiegate Leopardi voi insegnanti di lettere fate tutto lo scibile umano rispetto alle poesie di Leopardi il mio insegnante quando spiegava Leopardi spiegava tre poesie dico come tre poesie e su ogni poesia ha ribadito si attardava almeno un paio di mesi dico scusa e tutto il resto dice no spiegava la poesia di Leopardi fino a quando non ci portava al pianto la scuola dell'Icare la scuola che ci porta al pianto cioè una cosa che al solo pensiero mi dei brividi la scuola che porta al pianto significa la scuola che mentre tu stai spiegando Leopardi ti fa provare talmente tanta emozione Leopardi o altro che ti conduce al pianto a noi insegnano che addirittura non dobbiamo far piangere non bisogna piangere che è sbagliato piangere ecco la scuola che si prende cura è la scuola che cura attraverso la medicina che ha la medicina che ha ecco mi ha colpito molto un collega che diceva stiamo medicalizzando tutto è vero la minima preoccupazione che abbiamo chiamiamo i genitori e se rispondono i genitori serve e lo psicologo in Italia da oggi la grande notizia si aprite oggi i giornali è il bonus psicologico che è come il bonus facciate esattamente un bonus di facciata servirà solo a quello non servirà a cambiare la situazione nelle nostre classi perché i ragazzi stanno talmente male che sarà difficile che col bonus psicologico piuttosto dovremmo utilizzare i nostri strumenti per curare certo e un altro aspetto della cura però che avevamo così discusso insieme era quello che ci portava a dire che c'è anche la dimensione del piacere in questa meravigliosa professione sì e la prendo anche qui la prendo da questa esperienza forte che ho fatto con queste 15 potrei chiamarle quasi figliocce c'è Mari-Lisa quest'anno raggiungono tutti tutte l'età di 18 19 anni quindi per lo più si diplomano però ecco la scuola che fa un miracolo che cura e realizza poi i miracoli si è citato di Andrè prima e lui diceva che dalla merda nascono i fiori sì noi siamo questo noi siamo il miracolo e se penso a Mari-Lisa Mari-Lisa era una di queste bambine si è diplomato lo scorso anno e adesso è iscritta al primo anno di psicologia e io ogni volta che parlo di lei ovunque vado faccio fatica perché penso all'idea di come possa curare Mari-Lisa ogni indomani da psicologo altri umani cioè una donna una ragazzina una bambina abusata per tanti anni che passa ad abbatterla la strada a potersi prendere cura di altri umani ecco la scuola è questo questo miracolo è questo questo fiume incessante che ti sagoma e ti cambia abbiamo quindi rifocalizzato l'attenzione sulla scuola la scuola non è solo l'insegnante non è solo la classe non è solo il singolo allievo in dialogo con l'insegnante ma è una comunità qual è la tua la tua testimonianza rispetto a questo tema sì io sono stufo almeno in Italia di sentirmi parlare della scuola come comunità educante ha perso il senso questa dicitura mentre parlava parmigiani mi sono appuntato alcuni titoli che non ci mi sono venuti così nel senso che se dovessi scrivere rispetto a quello che parmigiani mi ha dato stamattina ho scritto la scuola in una stanza in realtà ci ha parlato di una scuola sconfinata tutto è scuola tutto lo è il fruttivendolo lo è il farmacista lo è la scuola ecco vado via da questa intensissima giornata con una cosa di cui sono convinto Magda che noi dobbiamo prenderci anche un po' meno sul serio come insegnanti parmigiani da questo punto di vista mi ha risollevato prenderci meno sul serio significa che noi non salviamo nessuno neanche il papa salva nessuno non c'è essere umano che salva qualcuno tranne i medici quello che noi facciamo e di questo mi convinco sempre di più è semplicemente prendere i nostri figli metterli su una strada dargli un calcio nel sedere il più forte possibile nel sedere perché non si siedano però li dobbiamo fare allontanare da noi dandogli il calcio perché nessuno di noi abbia la tentazione da genitore insegnante di prenderli in braccio quando cadono e non è masochismo è semplicemente responsabilità che abbiamo nei loro confronti perché solo cadendo solo sbagliando ci si può educare l'idea dell'errante torna e non riguarda soltanto noi insegnanti ecco il pugilato torna questo continuo un rapporto dialogico che è un rapporto è un rapporto d'amore non so dirlo diversamente sempre lo stesso Parmigiani parlava della didattica cross-culturale da dove è il mondo che mi educa si parlava di stranieri l'idea per esempio che la scuola non sia confinata nelle nostre aule al di là di tutto quello che in Italia non se ne può più per esempio anche rispetto alle sperimentazioni andiamo in giardino a fare scuola andiamo in piazza a fare scuola andiamo nei musei perché ce l'ha detto la Ferragni di fare scuola lì non se ne può più no anche qui dobbiamo essere credibili dobbiamo essere credibili ho la grande fortuna con la scusante dei libri di girare da 12 anni senza mai fermarmi io ecco da giornalista non vorrei più raccontare le grandi scuole che hanno la nomea nella nella Milano del Nord Italia ma anche a Roma anche nella mia Bari i grandi licei dove il modello lo si diceva anche stamattina la tv nel senso che mi è capitato in un liceo importantissimo di Milano di andare a fare la presentazione a un certo punto si avvicina una collega di filosofia e mi dice sai qui facciamo i reading ho detto guarda anche a Bari facciamo i reading ovunque si leggono libri se ne discute insomma non fate niente dice no ma noi qua utilizziamo il modello arena dico bello l'idea dell'arena la Grecia dice no un po' come Maria guardate credetemi ho pensato la Maria dell'articolo 31 sarebbe stato più interessante la Maria di cui parlava era la Maria televisiva ecco in Italia vi assicuro che il livello della nostra scuola sia abbassato a questo livello mi è capitato di scriverlo nell'ultimo libro che ho pubblicato la leggerezza di cui parla Calvino ci siamo inventati un linguaggio becero lurido rispetto alla scuola in Italia ci siamo inventati la scuola senza zaino che so che non è la scuola dove non si porta lo zaino ci siamo inventati la scuola senza libri c'è un genio nella mia regione di un preside ex sottosegretario che si è inventato la scuola senza libri cioè gli studenti si fanno le fotocopie diventano libri scolastici il mio presidente di regione non faccio il nome si chiama Michele Emiliano per due anni non ci ha mandato a scuola e si è inventato la scuola senza scuola noi stiamo edulcorando stiamo rendendo tutto leggero e Calvino diceva tutt'altro rispetto alla leggerezza della letteratura la gravità di quello che ci dovrebbe dare la scuola è un brutto momento almeno per la scuola italiana e chiudo anche di raccontavo ai colleghi di interloquire più volte da giornalista due settimane fa ho interloquito col ministro parola grossa l'ultimo ministro in Italia con cui io avevo paura terrore a parlare è stato Tullio De Mauro tutto ciò che è venuto dopo sia affascinante importante per quanto siano passate donne ma non è che purché donne bisognava anche parlare con queste donne di che parlavi ma anche con questo ministro io ho fatto fatica a dire ministro sono due anni che ci siamo fermati in Italia la didattica non è cambiata è tutto uguale a prima ecco allora incontri giornate di studio di scambio come queste io credo che risolvano e aiutano a formarci molto di più di corsi di formazione infiniti che non servono a nulla grazie detto da da un uomo di scuola fa veramente molto molto bene bene io direi che ci fermiamo qui magari chiedo a Giancarlo se vuole raggiungerci no mi sembra giusto hai aperto chiudiamo insieme grazie grazie ancora tantissimo davvero tantissimo bene io non ho più guardato l'orologio quindi non so se siamo nei tempi non siamo nei tempi ma credo che questa giornata sia stata talmente intensa che non è questione di minuti non è questione di luoghi di spazi ma di quello che ci portiamo ci portiamo da questa esperienza vi ringraziamo vi ringraziamo tantissimo ma soprattutto ringraziamo tantissimo tutti i relatori che hanno contribuito è stata un'opera di cucitura fine e di questo devo ringraziare assolutamente Giancarlo e credo che è proprio nella pluralità che siamo riusciti a portare qui oggi che stia il valore aggiunto quindi buon rientro a tutti buon weekend e grazie ancora grazie 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 grazie